Buonasera cari amici, sono Adriano Berliani. Volevo dirvi che nell'associazione Cancro Primo Aiuto condivido veramente tutto. Sento che stanno facendo molto molto bene da oltre 20 anni. Hanno iniziative straordinarie, soprattutto per il territorio nostro di Monza e dell'Abrianza. Farò parte anch'io di questa associazione. Vi auguro ogni fortuna, ogni bene e ricordiamoci sempre che la cosa più bella del mondo è fare del bene a chi ne ha più bisogno. Buon Natale, buone feste e arrivederci a presto.